Buongiorno, sono Gianfilippo Mancini, consulente alla vendita di Audio Automobile Roma. Siamo qui per presentare Nuova 3 Sportback, quella che dal 1996 ad oggi rappresenta la capostibite delle compatte berline premium, vettura che è stata scelta negli anni da 340.000 clienti italiani per la sua riconoscibilità e per la sua desiderabilità. Nuova 3 Sportback ha una linea dinamica, marcatamente sportiva, che segna il passaggio ad una nuova era. Nel posteriore vediamo i gruppi ottici assottigliate, le prese d'aria e i diffusori specifici per ciascuna delle versioni disponibili al listino. La nuova connotazione stilistica di Audio A3, con il black panel sulla plancia, si ritrova anche nel tunnel centrale, che grazie alla leva selettrice, Shift by Drive, permette di avere appunto spazio ampio per il conducente e per il passeggero al centro. Inoltre, la novità è rappresentata dalla maniglia delle portiere, che ricorda quella della sorella maggiore Q3.